Il presidente della regione Basilicata, Pittella del Partito Democratico, durante tutta la campagna elettorale alle regionali ha detto un no secco alle nuove estrazioni petrolifere in Basilicata, ma evidentemente ha cambiato idea. Durante un incontro a Marsico Nuovo in provincia di Potenza che riguardava un pozzo petrolifero di nome Pergola 1, proprio situato in un'area protetta a ridosso di Marsico Nuovo, ha inscenato un'assemblea dove erano presenti soltanto dirigenti eni e esperti che non erano super partes. Per fortuna erano presenti dei cittadini informati. Guardate cosa è successo. Io sono qui a discutere. Manca la controparte. Da controparte mi sembra che c'è e sta parlando. Non è stato invitato. Ci sono degli esperti che non sono stati invitati. Ci sarà tempo per far parlare con gli esperti. Quando? Se non ci sono. Ci date la possibilità di far parlare degli esperti. Adesso? Ho detto. No, nessun problema. Se mi ascoltate così ci capiamo e rendiamo la serata utile. Stai offendendo i cittadini? Stai offendendo i licenziati? Ma chi ti pensi di essere? Bravo! Siete un comitato di occupazione. Questo è un tribunale, capito? Voi venite qui a dare le sentenze. Vergognatevi. Bravo! Eni, fuori dove l'Eni? Eni, fuori dove l'Eni? Eni, fuori dove l'Eni? Avete perduto! Avete perduto! Avete perduto! Avete perduto! Allora, io vorrei capire. Voi capire. Chiedo scusa. Voi capire. Se in questa sala... Voi capire. Voi capire.